A lune è sempre più vicino ragazzi, io non vedo l'ora di vedere i prossimi skin che aggiungeranno all'interno di Fortnite Mi aspetto skin mostruose, spaventosi, oripilanti, non c'è spazio per la bellezza, per la dolcezza, a parte i dolcetti Per le waifu non c'è spazio per nessuno Ma voglio essere genticata, va bene? Ragazzi bentornati o benvenuti, sono il nostro amico di Spider-Man di YouTube E oggi ragazzi non era questo il piano ovviamente, volevo andare ad acquistare le skin di The Night Before Christmas Ma il gioco ha voluto dediziarci di questa fantastica streghetta Malvina Maleficio che dovrebbe essere, se non sbaglio, una review di un'altra skin che abbiamo già Che mi sembra che sia Lexa, giusto una cosa del genere E infatti eccola qui, Lexa, sì, dovrebbe essere uno stile di la sua skin Poi abbiamo invece l'altra principessa Lexa E qui invece abbiamo la versione strega, ragazzi, sono stupende, sono stupende Vabbè a sto punto direi, visto che abbiamo preso lei Vediamo se riusciamo a fare anche oggi una fantastica vittoria reale Con questo skin, sperando che la gonna si c'è Sperando che la gonna non si bughi, ovviamente Ma con quel sorrisetto Un po' così, ecco appunto Mi sa che sarà un po' difficile giocare Ma noi Ce la possiamo fare Allora, nello scorso video ho avuto un sacco di problemi tech Ci sto aggiornamento che fissava qualcosa, quindi speriamo che stavolta sia al top del top E vediamo un attimo questa skin com'è Ehm, ok la gonna, non bugghiamola come l'altra volta Non bugghiamola, non bugghiamola, non bugghiamola No, non si bugga veramente E devo dire che è veramente molto molto bella Anche la copertura non è male Il backpack dietro è carinissimo Prima partita di un po' dove possiamo andare Volevo andare da Mephisto Mi sa che ci attacchiamo Campi cadaverici Voglio andare lì, recuperare il doppio pistone di Gwenpool E fare un po' di pan per focarci a tutti Ecco, io in realtà non potrei guardare Perché ora sono fidanzato ragazzi Però Guardalo lo stesso Non ho abbastanza da cosi Sono povero di vingotti Non ci posso credere Ma Mi devo un botto Dai, dai Ma che cavolo Non lo vedo Ok, stavolta Iron Mani mi ha ucciso Nello scorso video Uccidere e stavolta si è vendicato Spooky spooky skeleton Nanananananana Nanananananananananana Oh, io spero che questa emotola aggiungano La spedizione a me piaceva Cioè A me come canzoncina piace Sapete le emoti che devo rimettere dentro la cerchia delle emoti preferite? Quella di This is Halloween Questo è Halloween Questo è Halloween 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 Ora tu Se lo vuoi Cantare la ballata della zucca con noi Ciao Edward Ti devi un po' No, Edward No, Edward Eddie Cosa? Ti devi to' Ti devi to' Grazie tante Allora, bella roba da Marvel Però sti guanti di Shuri Mi stanno un po' rompendo le scatole Oh, cavolo Ti bruci di Bruxelles Ritiro quello che ho appena detto sui guanti di Shuri Sono utilissimi Dove? Ah, no Ah, ah, ah Avanti, Peter Oh, ora solamente skin Marvel Cioè, non è che mi voglio lamentare Però Che tra l'altro Parlando di skin Marvel Ora Non so se quando uscirò questo video Saranno già uscite Comunque arriverà il video Hanno licchiato L'hanno chittato Che ci saranno A parte le skin di Di spider Spider woman Che ovviamente porterò sul canale Ma anche quelle Di pesce Se conversione Deadpool Che sarà Fish E ovviamente porterò anche quella sul canale Allo scudo Uh, colpito da dietro Deve fare male Non so perché Ma La roba di I guanti di Shuri Mi sembra più roba da streghe Quindi Boh, credo che tanno quelli Per il momento Ok Potremmo riprendere danno Allora Ok Non era lui il tizio Che sta Che stava camminando qui prima Infatti C'è un altro È un altro tizio Allora C'è un tizio qui adesso Certo Però che anche Una skin Stile Agatha Agnes La potevano aggiungere Proprio Tento che c'è la serie Oh cazzo Sarò Ok 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 Non doveva andare così Ma vabbè lo stesso Ok Al fine del tizio Sono riuscito a scovarlo Era qui dietro Non so come ha fatto L'erbare qui dietro Così in fretta Ma vabbè lo stesso E mi sembra di aver visto Sfuggito una cassa mitica No Erano le cose di Billy È una scorta personale Purtroppo non mi seguono Sarebbe bellissimo Oh no No E dai Mamma mia ragazzi Questo si chiama Vericulo Questo si chiama Proprio culo Cazzo Via Porca miseria Mi ha fatto Io gli ho fatto male Ma anche l'ha fatto male a me E ora se l'ho messo malissimo Senza cuore Grande Però Con una macchina Fantastica Mi sparano ancora Mmm Carne fresca No Che è successo Oddio ragazzi Micca Pratico Mi sono bloccato il gioco Altra volta Pratico Non ho fatto i messi scherzi Per favore Spaccare Quel coso Dai Mi ero appena curato Che palli Stronz Oh merda Allora Sono messo bene Di materiali Di colpi Di cure Eh Ho tre medikit Sarò completamente Senza con voi Ragazzi Mi tremano le mani Let's go Baby Let's go E anche questa Ce la portiamo a casa Ma guarda Ma balla Signorina 12 kill Anche oggi ragazzi Ci portiamo a casa Una bellissima Vittoria Reale E vado a fare Subito un'altra Dai Mi sento generoso Tu Stai la skin di spider Mi voglio regalarti questa Prendila Prendila No ragazzi Non la vuole Dovemi buttare Tu Tu hai la skin di spider Dai Dai No Ehi No 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 Hai la skin di magneto Hai la skin di magneto Ok va bene Te la puoi tenere Hai la skin di magneto Tutta tua Tu Senza la corsa dell'autus Volevo Andare a recuperare Direttamente dal boss Il pompa paletti E anche i lanciaggi Però ho visto Che se non sbaglio Hanno messo il pompa paletti Con la possibilità Di trovarlo nelle ceste Non so se sono leggendario Oppure anche Delle altre realtà No ma questa Questa skin ha anche un altro stile Che ero curioso di provare adesso E mi sono dimenticato E poi vabbè Ragazzi la vedremo dopo Nel caso adesso moriamo Mi facciamo subito un'altra Con lo stesso Con l'altro stile Ah Bagno nel sangue Che schifo Oh Mi fa impressione Passarmi qua Non so il perché Oddio Non mi cattisci Dai No mi diritto Non ci posso credere Ho cagato addosso comunque A sto punto Vedrei anche il secondo stile Wow Veramente Wow Stupenda Questo è Halloween Spaventoso Halloween Non mi ricordo Come fa Ma ragazzi però Le mie canzoni preferite Di The Night of the 4K Ma se rimarrà sempre Quella dove Jack Canta la luna Ho dentro me Che cosa non so Un vuoto che Non capirò Lontano da Quel mondo Che ho C'è un vuoto che Spiegarmi Non so Ho visto un tizio lì Infatti Eccoli Spider-Man Oh cavolo E ti duxello Ho già fitto i materiali Sì L'ho letteralmente Distrutta Ma che Per l'ultima volta Non ci provi Perché l'ultima E quella buona Ne sono sicuro No niente Ok Grazie No ragazzi Se qualcuno Lo sto domandando Non ho usato Lo scatto Per guardare Sotto la gonna Per favore Abbiate un po' Di contegno Sono personaggi Di un videogioco Non mi scalate Sono qui Non mi scalate Sono qui No ragazzi Non le ho rubate Nel senso No Cioè Ok Sì ok Una le rubate E l'altra le uccide Dai forse Cos'è Ah no È una scopa Ok È una scopa Che potrei utilizzare In effetti Al posto Massi Dai Anche Con il tema Del video Quindi Via Deve fare male Questa Sì Tizzo Con il medaglio Di doom Oh cavolo Bello mio Se mi permetti Oh ma Hai pompa Paretti Ok No me l'ha rubato Dov'è mia pompa? Eccolo qui Let's go Ok Ora mi sto In pericolo Non so perché Mi sento in pericolo Ma non mi farò Pervadere dall'ansia Anzi Sono pervaso Da altre emozioni Perché ho fatto Questa strega E non so Se mi Amore mio Vieni qua No Ma No Purtroppo Per colpa Del coso Che non vuole funzionare Sono un po' Stretto a scappare Perché non posso Remodificare Cosa ho fatto io Medaglio il doom Ok Mi sono curato Perfetto Medaglione Non è che ti direi Stesso Perché mi serve Sapere dove sta Qua Ok Stessa mitica in omaggio Non prenderò il contenuto Va Dai è tutto scarico Oddio Ho 69 di vita Questo cosa mi significa Fortnite Eh Eh Cosa mi significa Che ho 69 di vita I più grandi lo capiranno I bambini un po' meno E non tienite I vostri genitori Down 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 the road Down the witch's road Na 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 Ragazzi Ma cosa stiamo dicendo? Da 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 Ma cosa stiamo dicendo? 14 kill Seconda vittoria reale Con 14 kill L'una delle streghe Vola su una scopa Da strega Di nostri Cari miei Io ve l'ho detto Questa è la mia stagione Comunque Degu studio può anche Terminare qui ragazzi Spero vi sia piaciuto Questa skin È fantastica Scrivetemi qui sotto i commenti Se anche voi L'avete acquistata Oppure state aspettando Altre skin E a tutto che siete qui ragazzi Vi raccomando Aggiunissimo like Iscrivetevi al canale E condizzo questo video Con i nostri amici E noi ci vediamo Nei prossimi giorni Con un prossimo video Quando i vostri amici Con le spade Rami di youtube Tutto Bella raga Flash is fast Flash is cool Francois Sabah Flash ain't no dude And you don't stop Shusha Go out To The parking lot And you get in your car And you drive real far